erano i fustini confezionati con cura i detersivi con marchi famosi ma contraffatti scoperti dalla guardia di finanza a cercola in località caravita nel napoletano il blitz ha permesso di individuare una fabbrica illegale di circa 200 metri nascosta dietro una parete immobile di uno stabile dove operava una ditta di trasporti sei giovani napoletani di età compresa tra i 20 e i 35 anni ognuno con la propria mansione all'interno dell'opificio clandestino tutti incensurati sono stati arrestati dovranno rispondere di violazione in materia di contraffazione sicurezza dei prodotti e frode in commercio